Panico ieri sera in pieno centro Monopoli dove ha preso fuoco un Fiat Cubo parcheggiato sulla banchina Solfatara negli stalli riservati e gli autorizzati della ZTL centro storico. Le fiamme sono divampate dal vano motore, in pochi minuti hanno avvolto la multispazio. Sul posto i vigili del fuoco del locale di staccamento con una camionetta e un pick-up che a sirene spiegate hanno percorso le vie del centro, chiuse al traffico veicolare in occasione dell'ultimo giorno di festa patronale. In loco anche i carabinieri della locale stazione e la capitaneria di Porto. Buonasera, buonasera, ha preso fuoco macchina, ci ha preso fuoco. Buonasera, buona notizio, sicura può essere un tagliato che ti resta lookin'era sul Grazie.